Microfoni Browner a transistor FET Il Field Effect Transistor o FET è il componente elettronico che ha sostituito al meglio la valvola. Nei sistemi audio e soprattutto nei microfoni mantiene l'alta qualità delle caratteristiche sonore, attribuendo maggior funzionalità e compattezza al sistema di ripresa. Dirk Browner costruisce alcuni fra i più performanti microfoni a FET. Le serie sono due, ognuna con una propria curva di equalizzazione. Alla serie Phantom viene attribuita la sonorità Natural, estremamente lineare e ricca di dettaglio, pur mantenendo il calore tipico delle valvole. Della serie Phantom fanno parte il Classic, con polarità cardioide, e il Phantom V, con polarità omnidirezionale, cardioide e figura a 8. L'altra serie di microfoni Browner FET è la FANTERA, con quella che viene definita da Browner sonorità Charming. Mediobassi e bassi corposi, medioalti e alti setosi ed armonici, un colore tipicamente valvolare, ma che arriva da componenti allo stato solido. Oltre al modello FANTERA cardioide, c'è il modello V, con caratteristiche di polarità variabile, omnidirezionale, cardioide e a 8. Entrambe le serie Browner FET, e in qualsiasi configurazione, conducono a risultati di ripresa sonora ugualmente eclatanti, che si tratti di esecuzioni vocali o strumentali. Come tutta la produzione Browner, questi microfoni sono dotati di esclusivi supporti elastici. Skylark Is there a meadow in the mist Where someone's waiting to be kissed Skylark